Con questo accordo ci impegniamo a promuovere nei rispettivi territori la città partner e quindi in che cosa consiste? Destineremo uno spazio espositivo all'interno dei nostri uffici turistici all'esposizione e alla promozione delle attrazioni di Senigallia così come farà Senigallia che dedicherà a noi uno spazio all'interno dei loro uffici turistici. Presenteremo poi la nostra offerta anche in serate dedicate e parteciperemo agli eventi tradizionali di Senigallia così come Senigallia parteciperà ai nostri, penso per esempio alla fiera di San Martino. Questa è una cornice istituzionale che ci permette di gettare le basi per una promozione anche futura all'interno della quale sicuramente avranno un ruolo importante i privati in primis il consorzio ma anche gli altri operatori turistici che potranno quindi costruire dei pacchetti turistici commerciali ad hoc con i consorzi turistici di Senigallia. Questo accordo ha un valore importante soprattutto in questo momento di emergenza perché è un accordo sostanzialmente a costo zero e quindi ci permette di promuovere la nostra città senza spese a carico del comune e tanto più che ci permette di intercettare quei flussi turistici importanti della città di Senigallia che l'anno scorso ha registrato oltre 900.000 presenze e ci permette quindi anche di attingere ad un vaccino di utenza di turisti al di fuori di quello che è il nostro classico turismo di prossimità.